Sarà una perizia stabilire l'esatta dinamica del tragico schianto nel quale lo scorso martedì hanno perso la vita Francesco Diana e Gianna Mori. L'incarico sarà conferito il prossimo mercoledì dalla Procura di Arezzo, che affiderà ad un consulente tecnico il compito di far piena luce sul drammatico incidente lungo la strada provinciale 21 ad Indicatore. Marito e moglie viaggiavano a bordo di una Skoda Fabia con il loro figlio in direzione Valdarno quando è avvenuto il frontale con una Porsche. Un violento impatto che non ha lasciato scampo a due coniugi. Lui è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Donato, lei nella notte a Careggi, dove era arrivata in condizioni disperate. Ancora ricoverato invece il figlio, 25enne della coppia. Per il conducente della Porsche l'accusa è quella di omicidio stradale. La perizia richiesta dalla Procura dovrà ricostruire non solo la dinamica, ma anche chiarire se ci siano aggravanti dalla velocità troppo alta all'invasione di Corsia. Sando ad alcune indiscrezioni, l'uomo avrebbe avuto una velocità al momento dell'impatto di oltre 100 km l'ora, il doppio del limite consentito.